A voi tutti amici di Rete7, ben ritrovati. Io vi avevo avvertiti, perturbazioni sì, ma ancora una volta soprattutto al centro-sud. E così è stato e così sarà. Ed in effetti la giornata di domenica sul nostro territorio trascorrerà senza tanti cambiamenti e scossoni. Avremo cielo poco, parzialmente nuvoloso, però non sono previsti fenomeni. Le piogge, la perturbazione che avete visto è dalle due isole maggiori, poi si sposta verso, si sposterà, si sta spostando verso lo Ionio, appunto richiamerà piogge proprio sulle regioni centrali e meridionali. Da noi la situazione resta tranquilla. Temperature massime in lieve rialzo, minime invece pressoché stazionarie. Ma attenzione, poi con la prossima settimana che ci porterà nel mese di dicembre, il primo mese invernale, beh, che dire, ci sarà un assaggino freddo, ma comunque ne riparliamo per i dettagli. Staremo a vedere, arrivederci.